Non spingete, abbiate pazienza, state per incontrare qualità, cortesia e convenienza. Sole, mare, vacanza, siamo al culmine dell'estate, ma siamo anche nel pieno dell'offerta acqua e sapone. Dai, dai, seguitemi, venite con me! Chief e l'Isoform sono in promozione. L'Isoform lavatrice rimuove germi e batteri e lo trovi nel formato da tre flaconi a un prezzo eccezionale. E per le superfici prova Chief Spray Casa Expert, in promozione a 1,49€. In più, solo da acqua e sapone, se acquisti tre prodotti in promozione, ricevi subito in omaggio la Prattica Sacca Porta Bucato. DAV, Mentadent e Sunsilk sono in promozione. I dodoranti DAV sono in offerta a 1,69€. Sunsilk shampoo e balsamo sono al prezzo eccezionale di 1,29€. E c'è anche la nuova linea by Chiara Nasti. Scopri gli sconti anche su Spazioline e Dentifrici Mentadent. E solo da acqua e sapone, se acquisti tre prodotti in promozione, ricevi subito in omaggio la saponetta DAV. Visto che offerte da acqua e sapone e con 700 negozi in tutta Italia, ne trovate uno anche se siete in vacanza. Acqua e sapone, oltre la convenienza.